A me non piace continuare a cantare mentre c'è una persona che sta male, quindi finché non viene un libro che la persona sta bene, che sia ripresa, io preferisco aspettare. Roberta, stai tranquilla, so che ti sei già svegliata, che ti sei già ripresa e non voglio cantare nel momento in cui il tuo cuore va a tempo con il mio, perché qua su si sentono dei battiti passeschi, anche tu Roberta, andiamo a fare un applauso alla roba che sei, un po' emozionata. Roberta, parusella mia, come si dirà? Picciata mia, ma ti vedo magra, mangiare devi, guarda anche per il sedere che c'ho qua io, portai il carmono siciliano. Mamma mia. Allora questa sera, visto che Roberta sta bene, noi stiamo bene, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico anche noi, si è rotto ed emozionato il pianoforte, che è quello che utilizzavamo normalmente, quando io suonavo nelle cantine. e questo è la parola! Grazie! Alla che mi desiste! Alla che mi esiste! Alla che mi esiste! Alla che mi esiste! A voi che ci siete sempre! Grazie mille! Alla che mi esiste! Sono, sono, Adriano Brotta e Mr. Berco Montforte. Lugito di El Diasma e Ditos. Signori e signore, la mia grande Nicola Montforte. Matteo Bassi. Gianluigi, grazie. E lei è il massimo, la battaglia. Ancora ci fange. A piano alla programmazione computer, alle tastiere, il DJ e il maestro Bruno Zucchetti. Grazie. 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 Grazie.